Oggi esploreremo il potente messaggio sociale di Belen Rodriguez, mentre condivide la sua vita ad alta quota e sfida le critiche. Scopri cosa ha da dire. Belen Rodriguez, la celebre icona mediatica italiana, è al centro dell'attenzione per i suoi post social ad alta quota con il fidanzato. Mentre molte persone esprimono critiche, Belen lancia un messaggio che non puoi ignorare. In un post recente, Belen ha condiviso un'immagine di due cavalli selvaggi e scritto. Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Ma cosa significa davvero questo messaggio? Cosa sta risvegliando in lei? Belen fa riferimento a un lungo, letargo, che sembra aver vissuto. Potrebbe essere legato ai suoi trascorsi con Stefano De Martino o agli undici giorni senza social che hanno sollevato preoccupazioni? La risposta rimane criptica. Belen risponde alle accuse di seguire uno, stesso copione, con determinazione. Lei scrive. Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi. Non intendo accontentarmi. Non intendo far finta di non vedere. Di non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo. Tutto quanto in me sorride. E non intendo fermarmi. Belen difende la sua autenticità e la sua libertà di vivere la vita come desidera. Mentre alcuni possono dubitare delle sue intenzioni, lei reitera il suo impegno a seguire il suo cammino con coraggio e amore. Se vuoi rimanere aggiornato su storie intriganti come questa e altro ancora, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Clicca il pulsante di iscrizione e non perderti le prossime storie in primo piano. Ti aspettiamo nel prossimo video.